E' così, è così. Lo Zenti Palermo, Quartogiorno Milano, Sant'Elia Cagliari, devono essere il motore di integrazione per tutto il paese. Sì, Giovanni, però non è così semplice. Qui a Roma ci sono delle periferie con dati impressionanti. C'è il Trullo, c'è Torbella Monaca, Bastoggi, ecco, Bastoggi per esempio. Bastoggi è una realtà molto complessa. La verità è che è arrivato il momento di andare oltre le parole. A cominciare da noi, a cominciare da me. Papà! Agnese, scusate un attimo, arrivo a stare. Agnese, ma che sorpresa, ciao! Come è andato il viaggio? Bene. Ce l'hai 20 euro? Sì. Papi, ho conosciuto un ragazzo. Mi fa piacere, lo conosco? No, non lo conosci, Alessio. E chi è Alessio? Lui. Alessio? A 13 anni diravo più di tua sorella, conosciuto da tutti in ogni piazza d'Italia. Se mi vuoi potere oggi tu non avrai scampo. Stai allerta anche te quando parli di me. Ciao. Piacere. Noi andiamo. E andate dove? Passiamo a casa di Alessio. Dov'è casa di Alessio? Dov'è casa tua, Ale? Passaggi. Dove scusa? Passaggi. Ciao papà. Non sei solo tu a fare parte della gang. Sì. 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 Sì.